Buongiorno a tutti, sono Cecilia Cavaterra, ho 50 anni, sono un ricercatore universitario di analisi matematica presso l'Università degli Studi di Milano. Sono nata a Roma, ma dall'età di tre anni vivo a Saronno, a parte un intervallo di sette anni in cui ho vissuto a Milano. Io mi sono sempre dedicata alla ricerca, allo studio, perché amo tantissimo la mia professione, ma da qualche anno a questa parte mi sentivo un po' frustrata, tornavo a casa sempre lamentandomi delle cose che non andavano in questo paese, soprattutto facendo anche un confronto con i tanti paesi che ho visitato, sia per motivi professionali che anche per motivi personali e quindi ho deciso proprio di dare una svolta a questo atteggiamento impegnandomi in prima persona. Ecco perché mi sono avvicinata alla politica, io non avevo mai fatto politica attiva prima, ma chiaramente ero interessata alle vicende del mio paese che amo e per il quale vorrei appunto contribuire facendo qualcosa e tre anni fa ho deciso insieme ai miei compagni di viaggio di costruire una lista civica qui a Saronno, tu a Saronno e di contribuire al cambiamento partendo dalla città in cui vivo. Grazie anche al contributo della della nostra lista civica, il centro-sinistra dopo anni di governo del centro-destra della nostra città, ora è appunto amministra Saronno con un sindaco espresso dal PD, il sindaco Porro. E quindi in questi anni ho potuto vedere attivamente che cosa, concretamente che cosa vuol dire amministrare una città e sono assessore ai giovani formazione, culture, sport e pari opportunità. Un impegno veramente gravoso in certi momenti perché io ho continuato la mia attività, il mio lavoro, la mia ricerca e quindi conciliare le due cose non è stato semplice, ma questo impegno è qualcosa che mi ha fatto molto crescere, mi ha fatto capire tante cose e io spero di mettere a disposizione la mia esperienza non solo in ambito professionale ma anche in campo amministrativo per questo nuovo passo che ho deciso di intraprendere. La candidatura di Ambrosoli è stata una candidatura a presidente della regione Lombardia che è stata supportata da tanti partiti politici, ma Ambrosoli ha voluto fortemente la creazione di una lista patto civico per Ambrosoli presidente che coinvolgesse il più possibile la società civile, le associazioni e le liste civiche che sul territorio della Lombardia fossero state attive in questi anni. Ecco perché la nostra lista è stata contattata per partecipare a questo cambiamento e io ho dato la mia disponibilità perché ritengo che impegnarsi in politica deve essere impegnarsi al servizio della politica. La politica non deve essere al servizio personale per ottenere dei vantaggi come purtroppo negli ultimi anni sotto gli occhi di tutti sono avvenuti. E quindi con questo scopo del rinnovamento, anzi della rigenerazione, che è una delle parole chiave del programma di Ambrosoli, io spero di farne parte e di poter dare un contributo. I miei obiettivi sono sicuramente i giovani, non solo da un punto di vista del miglioramento della formazione e del loro ingresso nel mondo del lavoro, i giovani che in questo periodo sono particolarmente vittime di questa crisi economica e le donne, le donne non solo come parte importante e fondamentale della società, quindi occorre in tanti ambiti cercare di aiutarle nel conciliare il difficile binomio famiglia-lavoro e aiutarle in tanti ambiti. Anche la presenza delle donne in politica è qualcosa che deve essere implementato, valorizzato e la nuova legge per la quale in Lombardia andiamo adesso a votare prevede appunto che ci siano candidature uomo-donna-uomo-donna e io spero che grazie a questa legge si possa arrivare a una presenza maggiore delle donne in politica.